La riunione del civico consesso di fine anno, che si è svolta all'insegna della pacatezza, sono stati riconosciuti dai soli consiglieri di maggioranza i debiti fuori bilancio per un ammontare di 274.000 euro. Ad illustrare l'entità dei debiti fuori bilancio è stato l'assessore Raffaele Sainato. Nella sua relazione ha spiegato come si sia aggiunto il riconoscimento di questi ultimi debiti e che essi derivano dalle politiche disattente delle precedenti amministrazioni. La minoranza si è astenuta perché, ha detto il capogruppo, Antonio Cavo, continuano a permanere forti perplessità sia sul modo di procedere da parte dell'amministrazione comunale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sia anche intorno alla reale entità di tali debiti e soprattutto se sono stati tutti individuati. A Cavo ha replicato immediatamente Sainato, il quale ha sostanzialmente affermato che i debiti fuori bilancio, riconosciuti in questa fase, ammontavano a 302.000 euro, ai quali si sono aggiunti 3.000 euro derivanti da ingiunzione. Però il totale dei debiti riconosciuti e posti in pagamento è sceso a 274.000 euro perché alcuni cittadini creditori comprensivi hanno accettato una transazione che ci ha consentito un piccolo risparmio. L'assessore Sainato ha evidenziato che nel corso di questi tre anni di amministrazione l'esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Calabrese si è adoperato per impedire che il comune precipitasse nel baratro del dissesto. Con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio fatto ieri in Consiglio, la città di Locri si libera una volta per tutti da una palla al piede, che ha affermato Sainato si andava trascinando da circa 30 anni. L'amministrazione calabrese nel corso di questi tre anni ha pagato debiti per oltre 10 milioni di euro sicuramente non provocati da noi. Questi debiti sono stati generati dalle amministrazioni che si sono succedute in questi ultimi 30 anni, durante i quali avvocati, imprenditori, dipendenti, grazie alla disattenzione amministrativa hanno utilizzato le casse comunali come una sorta di bancomat, ove poter fare indisturbati prelievi per pagamento di ferie non godute, espropri, contenziosi, eccetera. Il sindaco calabrese, nell'intervento conclusivo, nel formulare gli auguri di buon anno, ha assicurato che l'amministrazione proseguirà il suo cammino fino alla scadenza naturale del 2018 e a quella data l'Ocri sarà sicuramente migliore di quella che abbiamo ereditato quando ci siamo insediati.